Ho sentito in questi giorni ventilare le ipotesi di maggiori risorse per le regioni, per gestire il servizio a settembre. Non è una questione di risorse. Ci possono essere risorse a volontà, ma da qui a settembre l'unica modalità per garantire il servizio di trasporto pubblico a studenti e pendolari è quello di togliere il distanziamento sociale. Altrimenti, se davvero è una questione di salute e su quella chiaramente dobbiamo essere assolutamente ligi e rispettosi, vuol dire che il problema è molto più serio e quindi non solo il trasporto ferroviario o comunque il trasporto pubblico deve essere ridimensionato ma ci deve essere una politica purtroppo di chiusura e che nessuno auspica, tanto meno io. Con le attuali regole anti-Covid sarà praticamente impossibile garantire allo stesso numero di studenti e pendolari il trasporto pubblico locale, in questo caso su rotaia perché a fare questa affermazione il presidente di LFI Maurizio Seri, anche se per quello che riguarda il trasporto su gomma le cose sono persino peggiori. Abbiamo fatto alcune simulazioni chiaramente che non possono essere considerate dei modelli matematici, però diciamo che nel periodo di allora di punta, quindi con la maggior frequentazione, chiaramente noi lì saremo costretti davvero a far viaggiare i nostri treni al 50%, il che vuol dire lasciare a terra 300 persone a treno, maggiormente studenti, però è chiaro che poi ci sarà una gestione anche difficoltosa di quella che è la partita degli abbonamenti. Perché? Perché nel momento in cui dovremo rilasciare gli abbonamenti, anche noi per un senso di responsabilità vorremmo capire quanti ne possiamo davvero rilasciare, altrimenti ci potrebbero essere dei soggetti che pagano l'abbonamento e che poi non utilizzano il servizio, perché non lo possono utilizzare, non perché per loro volontà. Quindi davvero è una situazione abbastanza paradossale che stiamo monitorando quotidianamente e auspichiamo davvero che il DPCM che ha una vigenza fino al 7 settembre possa essere dall'8 di settembre rivisto in maniera diversa. Non sarà il GES che arriverà nelle prossime settimane risolvere questo problema. Sarà una mitigazione del problema ma non certamente la risoluzione. Con tutte, come dicevamo prima, con tutte le massime attenzioni rispetto alla mascherina, rispetto alla igienizzazione delle mani, però dobbiamo far ripartire questo Paese, dobbiamo farlo ripartire in sicurezza e quindi il trasporto pubblico locale è una parte essenziale di questo mondo.